Testa di seme numero 4 qui a Torino, con 10 titoli di TP2 dall'Italia, Dominic Filipe! Testa di seme numero 4 qui a Torino, con 10 titoli di TP2 dall'Italia, Dominic Filipe! Numero 1 al mondo e campione in carica, Dalla Serbia, Lava Ciacconi! Come on, Dominic! Applausi! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti